Stiamo vivendo una settimana molto calda sul fronte delle banche centrali, la decisione della Banca Centrale Europea giovedì, così com'è sul fronte macroeconomico, il PIL USA. Cosa fare in borsa? Comprare o vendere? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Beh, nella settimana delle trimestrali non posso che rimanere ancora sul mercato azionario, ancora rimaniamo in America, rimaniamo su una carta rossa, sempre nel settore intrattenimento un altro bello short su Netflix, quindi concorrente di Disney. Ah, eppure la vediamo come rispetto, diversamente dalle altre trimestrali. L'ultimo quarter pubblicato al mercato è piaciuto, con una bella rialzo. Cosa ti porta in direzione ribassista? Vi sono fatti tecnici o fondamentali? Guarda, è piaciuto al mercato semplicemente perché sono state battute le aspettative, ma io non ho visto tutti questi elementi di ottimismo. Quindi, come per Disney, Netflix è in un settore ovviamente molto competitivo, ha un sacco di problemi da affrontare, tra cui la condivisione delle password, tra cui i sempre contenuti che devono arrivare sulla piattaforma, la concorrenza che, come abbiamo detto nel caso di Disney, arriva ed è sempre più pesante, quindi secondo me è un settore oramai con troppi player dove i margini vengono risicati da una battaglia sui prezzi. E allora, guardiamo i livelli, Luca. Un ingresso a 295 dollari, stop loss a 320 e target a 200. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 ad House of Trading. Grazie a tutti.